Ciao a tutti, questa è la seconda parte in quale continueremo a realizzare sciarpa a zig zag. Io sono arrivata alla fine del giro, faccio ultima catenella più ultima maglia alta e se avete fatto tutto giusto, dobbiamo finire il giro in questa maniera, fare una catenella e fare due maglie alte in terza catenella dell'inizio del giro precedente. Allora, faccio una maglia alta, una catenella e nello stesso punto faccio un'altra maglia alta e così abbiamo terminato questo giro e possiamo iniziare a fare il terzo giro. Il terzo giro lo facciamo sempre di questo colore e lo facciamo in questa maniera. Io faccio uno, due, tre catenelle, poi un'altra che serve per girare e giro il lavoro. E nello stesso punto, da dove escono queste tre catenelle, io faccio maglia alta e ancora maglia alta. E lì ho fatto nello stesso punto e dobbiamo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto nel primo giro e ve lo faccio vedere adesso perché il primo giro l'abbiamo fatto nella catenella e adesso dobbiamo fare questo sopra questo giro di azure. Quindi io faccio, getto il filo, nella prossima maglia io faccio maglia alta e prima, nella prossima che si vede, un'altra maglia alta è seconda, nella prossima maglia faccio la terza, nella prossima, nella prossima quarta e nella prossima quinta. e adesso dobbiamo ricreare questo angolo. Quindi getto il filo, nella prossima maglia faccio una maglia alta non terminata, una, nella prossima maglia faccio la seconda, nella prossima, nella prossima, che sarebbe il vertice del nostro angolo, faccio terza, nella prossima maglia quarta e ultima e quinta. Adesso tutti questi mali che abbiamo sull'uncinetto, una, due, tre, quattro, cinque, purché ultima, sesta, li chiudiamo così e questi due li blocchiamo ancora in questa maniera e facciamo cinque mali alte in ogni maglia del giro sottostante. Una, seconda, terza, quarta e quinta. e nella prossima maglia, che sarebbe sempre il vertice di questo angolo in alto, li facciamo cinque mali alte nello stesso punto. una, due, tre, quattro, e cinque. e in questa maniera noi dobbiamo continuare facendo cinque mali alte, creare questo angolo, cinque mali alte e creare questo angolo e così dobbiamo arrivare fino a fine del nostro giro. sono arrivata alla fine del giro e se abbiamo fatto tutto giusto il nostro giro finisce con quattro mali alte e la quinta noi facciamo nella terza catenella dell'inizio del giro. e quinta ok adesso il tre mali alte nello stesso punto che abbiamo fatto nell'inizio del giro che si vedono qui tre mali alte noi li facciamo sempre nella catenella. allora facciamo prima nello stesso punto seconda e nello stesso punto terza e terza non la chiudo perché adesso cambio il colore e ve lo faccio vedere come. in caso mio questo colore grigio io ho questa cosa piccola la metto davanti e chiudo il giro con questo filo di un altro colore è fatto. adesso faccio rigirare tutti e due colori indietro così e faccio 3 catenelle per iniziare il giro 3 e una che serve per girare ok e posso girare il mio lavoro ed allora noi ogni due giri dobbiamo cambiare il colore quindi io questo il giro di colore diverso devo fare uguale a questo giro diciamo il secondo giro e vi faccio vedere ancora una parte quindi io faccio un'altra male alta nello stesso punto da dove escono le catenelle fatto una catenella getto il filo salto una nella prossima una male alta una catenella una catenella getto il filo salto una nella prossima un'altra male alta una catenella getto il filo salto una catenella nella prossima faccio una maglia alta non terminata getto il filo salto uno nella prossima un'altra maglia non terminata getto il filo salto una nella prossima terza maglia non terminata chiudo tutti i tre insieme e chiudo restante due maglie e una catenella lo stesso lavoro che abbiamo fatto in questo giro allora faccio vedere ancora salto una maglia nella prossima faccio una maglia alta una catenella getto il filo salto la catenella nella prossima una maglia alta una catenella e in vertice salto uno e in vertice qui io faccio tre maglie alte con una catenella in mezzo una due una catenella e tre e una catenella e ripeto il lavoro come abbiamo fatto qui e adesso cominciamo andare avanti per ottenere lunghezza desiderata della metà della nostra futura sciarpa e ci vediamo dopo ho fatto la metà della mia sciarpa e come possiamo vedere tutti questi onde 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 e onde e adesso io devo livellare il zig zag quindi per liberare e livellare il zig zag io il filo di questo colore non mi serve più io l'avevo già tagliato quindi prendo che filo grigio e finisco questa ultima maglia alta con questo filo ok adesso faccio 3 catenelle 1 2 e 3 e giro il lavoro e adesso in prima maglia non questa da dove escono catenelle nella prossima faccio una maglia alta non terminata così nella prossima faccio di nuovo una maglia alta non terminata è fatto e adesso questi due mali li chiudo in questa maniera e chiudo completamente adesso dobbiamo fare 3 mali alte nelle prossime 3 mali alte nel giro sottostante quindi una due è fatto e adesso dobbiamo fare 5 mali alte con l'unico vertice ecco che abbiamo già fatto e quindi non c'è niente di spaventoso allora prima seconda seconda terza quarta e quinta e quinta adesso io col filo attraverso tutti questi cinque mali forche ultima e queste ultime due li chiudo insieme è fatto adesso faccio di nuovo 3 mali alte nelle 3 mali nel giro sottostante quindi prima seconda e terza e ultime 3 mali io faccio in questa maniera faccio una maglia alta non terminata la seconda maglia alta non terminata e nella ultima maglia alta io getto due volte filo e faccio così passo 2 mali altre 2 e adesso chiudo in questa maniera attraverso 3 e chiudo tutto insieme e così abbiamo fatto il primo giro per livellare il nostro zig zag adesso facciamo una catenella giriamo lavoro giriamo lavoro e li chiudo insieme e nella maglia centrale e io faccio una maglia alta così è fatto e faccio nella stessa maniera altra parte una maglia mezza alta e chiudo una maglia bassa e una maglia bassissima è fatto e in questa maniera abbiamo livellato il zig zag e adesso dobbiamo arrivare fino al prossimo zig zag e vi faccio vedere come io giro il lavoro e non faccio la catenella per iniziare il giro e nella prossima maglia non in questa in questa io faccio una maglia bassissima entro e tiro e tutti i mali bassissime le faccio fino a arrivare alla fine quindi sempre con mali bassissime cerchiamo di non stringere lavoro ok 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 ok